Vi ho promesso di fare il video su Messi e l'Inter, la fattibilità del colpo dal punto di vista finanziario. Allora, il punto di Messi è questo. Ovviamente non valuto la trattativa, non so se sia un obiettivo dell'Inter. Ok, guardiamo solo meramente il colpo dal punto di vista economico. Allora, intanto nella lavagna, ecco, vi ho segnato alcune voci dello stipendio di Messi. Alcune? Perché? Perché mi si vorrebbe tutto il retro della lavagna e forse neanche mi basta per scrivere tutte le altre. Quindi ho messo alcune, alcune voci. Per esempio, faccio capire cosa intendo. Nel bonus del 60% delle partite, cioè che se supera quella quota di partite, ecco, fondamentalmente scatta quel bonus, ci sono anche i corrispettivi diritti d'immagine da aggiungerci. Quindi sono altri quasi 300.000 euro e questo vale per tutti i bonus. Ci sono tutti i diritti d'immagine per ogni bonus. 600.000 euro, 500.000 euro, 300.000 euro, per ogni voce. Poi ci sono anche altre voci, perché mi pare che ci sia anche la Coppa del Re che c'è in Spagna, che sarebbe la nostra Coppa Italia. E c'è nei bonus anche per quella. Il pallone d'oro, se vince il pallone d'oro sono altri bonus. Ed è tutto un continuo di bonus, sopra bonus. Alla fine, però ragazzi, vi ho scritto in fondo, non so se si vede, l'importo totale annuale, annuale, dello stipendio, di tutto quello che guadagna, diciamo, messi. Quindi sono 90 milioni, se si realizzano i bonus, eccetera. Se non si realizzano, comunque, comunque, lui parte da 70-75 milioni, che sono proprio base, 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 di stipendio, perché sono quelli, più diritti d'immagine che ha, e più altre cosette che sono praticamente scontate, e quindi ragazzi, sono tanti, sono tanti soldi, ok. Detto questo, allora, ho sentito di una clausola, molti hanno detto, no, ma a giugno può liberarsi a zero. Non mi sembra che sia esattamente così, no? Allora, intanto il contratto che ha messi scade nel 2021, non 2020, 2021. Tu dici, beh, c'è un altro anno di contratto. Sì, quindi bisognerebbe pagare il cartellino, e costa parecchio. Però c'è anche da dire un'altra cosa, è vero che c'è una clausola. Però sembra che sia una clausola che permette, insomma, con 30 giorni di preavviso, un mese di preavviso, a Messi di liberarsi a zero, ma non a caso per andare ovunque. No, solo in alcuni campionati. Tra questi non c'è la Serie A, perché mi sembra che Messi non possa trasferirsi in campionati di serie, cioè, importanti. Tra i campionati importanti, comunque, c'è la Premier, c'è la Liga, c'è la Serie A, c'è anche la Bundesliga, e forse addirittura la Ligue 1, che è la Liga francese, se non erro. Quindi, almeno in questi cinque campionati, in teoria, in teoria, la clausola non vale. Quindi stiamo parlando del nulla. Vedete come si fa presto. Però quando c'è qualcosa che riguarda un grande calciatore tipo Messi, è subito, si dicono mezze verità, così che possa essere accostato a tutte le squadre, si crea un sacco di bufera giornalistica per niente. Perché, in realtà, appunto, non sembra plausibile. Cioè, ovviamente, se aggiungiamo al costo di stipendio, di commissioni della gente, eppure anche il cartellino, perché, appunto, non può venire in Italia a zero, però, in realtà, capite bene che, praticamente, è quasi infattibile il colpo, no? Cioè, costa tantissimo. Messi, a giugno, era 33 anni, giusto per dare qualche altro dato. E quindi, proviamo a ipotizzare, comunque, un Messi che viene da noi acquistato, perché, magari, è in scadenza di contratto, manca un anno, ha comunque, magari, un costo, mettiamo, accessibile, perché non vuole rinnovare un contratto e vuole andare via. Ok. Quanto potrebbe chiedere il Barcellona, secondo voi, che manca un anno alla scadenza? Beh, abbiamo pagato 20 milioni per Ericsson, però, non in scadenza di un anno, in scadenza di qualche mese, e quindi, era l'ultimo modo per capitalizzare, e abbiamo pagato, comunque, poi, anche 10 milioni netti di stipendio, e pensate voi, Messi. Messi, un anno prima. Mi sembra che Ronaldo sia costato una cosa tipo 100 milioni, 105 milioni, più delle commissioni, delle cose. Messi, fate Vobis, cioè, sparate voi una cifra, facciamo 100 milioncini anche per Messi? Beh, credo che possa anche valerli. Quindi, il punto è che sono 100 milioni, più ci sono le commissioni, più c'è da dargli uno stipendietto, giusto, giusto, da poveraccio. È solo cominciano ad essere veramente tanti soldi. Io adesso non vi faccio i numeri tondi, tondi, precisi, precisi, perché anche non si può ipotizzare un numero, se non abbiamo dei numeri effettivi, un costo del cartellino, oppure chissà quanto chiederà Messi di ingaggio, chiederà di più, perché vuole farsi l'ultimo ingaggio, chiederà qualcosa in meno, non lo possiamo sapere, però di certo, ragazzi, le cifre sono più o meno quelle lì, cioè non è che adesso viene in Italia, viene all'Inter per 3 milioni di euro, questo è palese. Quindi, quindi, secondo me, già boccio l'operazione, già mi sembra abbastanza infattibile così. Costerebbe tantissimo, sarebbe un passo più lungo della gamba, a livelli enormi, è vero che poi magari può portarti comunque, insomma, mentalità vincente, qualità sul campo, è comunque un fenomeno, ti può portare sicuramente anche visibilità, il brand ne beneficia e tutto quanto, ma molto probabilmente, molto, molto, molto probabilmente, questo non sarà sufficiente a ripagare il grande sborso che l'Inter dovrebbe tirare fuori, dovrebbe fare, dovrebbe impiegare per acquistare il giocatore. C'è anche da dire che c'è il decreto crescita, il decreto crescita è, insomma, un decreto che fondamentalmente ti permette di risparmiare a te club, il club, di risparmiare dei soldi di tasse, quindi, sul lordo del giocatore, quindi avresti comunque risparmio, però ragazzi, i soldi da tirare fuori sono comunque tantissimi, e sono comunque una spesa più che un investimento, arrivati a questo punto, Vediamo che anche Cristiano Ronaldo alla Juve è costato, e alla fine hanno andato comunque in rosso, il bilancio della Juve, anche se il fatturato è cresciuto, sono aumentate delle voci, il conto ragazzi è in rosso, figuratevi voi messi all'Inter, che i costi sembrano ancora maggiori, e soprattutto con un fatturato dell'Inter, che non è quello della Juve, è inferiore, quindi capite che rapporto di forza si inclinano pazzescamente, oltre a questo, chiaramente per fare posto a Messi dovresti vendere almeno Lautaro Martinez, ha senso secondo voi vendere un 22enne, per fare posto a un 33enne, anche se è comunque un fenomeno, quindi non stiamo discutendo di qualità sul campo, è però di progettualità, perché poi le aziende, e ovviamente le squadre di calcio, si fondano su queste cose qua, e non solo sul fatto della qualità del giocatore in sé, che quella è indiscutibile, quindi non lo so onestamente, mi sembrerebbe un azzardo pazzesco, mi sembrerebbe una cosa, non da Inter, non almeno da Inter, che deve ancora fare lo step finale, per diventare big, rischieremo di correre un grandissimo rischio, che poi, diciamo, va a compromettere, la crescita che stiamo avendo, in maniera, in maniera troppo rischiosa, io onestamente, ci penserei non una, ma due, tre, cinque, sedici volte, prima di fare questa cosa, e farei veramente tutti i conticini, come Dio comanda, oltre a tutto, bisogna vedere, secondo voi, Messi è un giocatore che può stare nel 3-5-2 di Conte, è vero che Messi può stare ovunque, per me, ma Conte magari non la pensa esattamente così, chi lo sa, perché sappiamo che è un allenatore molto, molto rigido, che nel suo 3-5-2 decide che i giocatori debbano giocare in quel modo lì, punto, l'ha fatto anche con giocatori tipo Hazard, voglio dire, o comunque giocatori importanti anche in Premier, quindi è così Conte, cioè non lo smuovi secondo me, poi magari per Messi può fare anche un'eccezione, spero proprio di sì, però insomma, ci sono tante cose da tenere a mente, quindi non credo che sia una cosa così facile. Detto questo, io arriverei invece al secondo spunto, che secondo me è molto più interessante di questo, cioè una possibile offerta per Skriniar di 65 milioni più Cancelo. Questa, secondo me, è molto, molto più interessante da analizzare. A livello di conti vorrebbe dire, se diamo una valutazione a Cancelo di 35 milioni, perché comunque si è un po' svalutato, quindi magari può valere quei milioni, lì vuol dire che valutano Skriniar 100 milioni, faresti una plusvalenza praticamente di 80-85 milioni quasi, e prendi Cancelo. Ovviamente perdi Skriniar però, Skriniar che è un giocatore importante, è un grandissimo difensore, sì è un po', quest'anno un po' più appannato rispetto all'anno scorso e al primo anno, però voglio dire comunque rimane un grandissimo giocatore, un grandissimo giocatore giovane, su cui costruire il futuro dell'Inter. Vero anche che Cancelo per me non è in discussione, è sottovalutato, non è stato, diciamo, messo nelle condizioni di rendere al massimo, né al City, dove c'è comunque un certo Walker che gioca a titolare, quindi un giocatore fortissimo davanti a Cancelo, e alla Juve non è stato valorizzato da Allegri, quindi secondo me ha delle attenuanti, ma è un grandissimo giocatore, a me piace tantissimo. Però vale la pena, diciamo, cedere Scrinier, e ovviamente però fare anche una grandissima plusvalenza per prendere Cancelo, io onestamente proverei a andare per qualche altra via, cioè acquistare magari, magari cercare anche Cancelo, ma con altri scambi, con altre trattative, cercando di slegare Scrinier, altrimenti, comunque va valutata l'operazione, perché non sono pochi quei soldi lì, adesso con tutto l'affetto, pazzesco, io amo Scrinier comunque, anche se quest'anno è un po' messo in difficoltà, ma per me è un giocatore comunque fortissimo, però effettivamente 100 milioni di valutazione sono tanti, perché 65 più Cancelo, vuol dire 100 milioni di valutazione, quanto può valere secondo voi Scrinier? È un difensore? Può valere 120, 150? Sappiamo che Van Dijk è stato pagato circa 80 milioni, quindi valutare Scrinier 100 milioni, se fosse vera questa voce, non è una cosa proprio da escludere così, bisognerebbe pensarci un po', e aspetto la vostra opinione assolutamente, quindi dite un po' nei commenti cosa ne pensate, e ovviamente 2000 like, perché sennò questo video lo cancello, anzi no, non si può più cancellarlo, l'avete già visto, però insomma dai, era tanto per ridere, ovviamente ragazzi, sarei contento se potessimo avere un Inter con Scrinier, Cancelo, Messi, non è questo il fatto da discutere, sono tutti giocatori fortissimi, che io adoro, però la fattibilità purtroppo va un po' analizzata, e vanno fatti purtroppo un po' questi conti, vedete appunto, quanto è complesso fare un contratto a un giocatore così importante, quindi secondo me le possibilità attualmente che Messi venga all'Inter, sono bassissime, ciao a tutti e forza Inter!